Dopo il grande spavento di ieri in via Pozzo Marrone, quando un albero è stato letteralmente abbattuto dalla forza del maltempo a poca distanza da un'auto rimasta in panne e con a bordo il conducente, Bisceglie fa la conta dei danni anche se la gran parte delle criticità è già rientrata. A sottolinearlo è stato il sindaco Angelo Antonio Angarano, il quale ha anche ringraziato il lavoro di polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile. Anche la nostra città ieri ha subito danni da questo nubifragio di un'intensità straordinaria. La buona notizia è che il sistema di protezione civile, quindi di intervento sulle criticità ha funzionato, in pochissimo tempo la città è tornata completamente in sicurezza e quindi il nostro grazie va ai vigili del fuoco, alla polizia locale e ai volontari che ieri si sono impegnati. Nel pomeriggio di ieri a Bisceglie e più in generale lungo le località costiere della BAT sono caduti in media 40 mm d'acqua, un vero e proprio nubifragio che ha comportato gravi disagi e allagamenti nella città biscegliese letteralmente sommersi punti cruciali come Piazza Vittorio Emanuele, dove è crollata anche la recensione del cantiere in zona Calvario, Via Porto, Via La Marina, Pendio e Misericordia, i sottopassi di Via Piave e di Via Ruvo, quest'ultimo del tutto allagato. Dure polemiche da parte dei consiglieri di opposizione che hanno attaccato l'amministrazione comunale a loro dire colpevole di non effettuare periodicamente le manutenzioni ordinarie. Angarano respinge le accuse al mittente. Le ormai tradizionali polemiche non hanno assolutamente luogo perché in questi casi non si tratta di manutenzioni ordinarie ma si tratta purtroppo di far fronte a degli eventi atmosferici che sono diventati sicuramente prevedibili ma la cui intensità e la cui forza genera inevitabilmente delle condizioni di criticità forte per ogni comunità.